All'alba di oggi i carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP presso il Tribunale di Patti su richiesta dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di 13 persone responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, estorsione, furto, ricettazione, riciclaggio e danneggiamento di sistemi informatici. Il provvedimento scaturisce dagli esiti di un'indagine sviluppata dalla Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della stazione di Falcone che ha consentito di individuare una rete di spacciatori attivi nel comune di Falcone nella vendita, anche a minorenni, di sostanze stupefacenti tipo marijuana, hashish e cocaina. Base operativa del gruppo criminale era, secondo l'accusa, un negozio di genere alimentari, gastronomia del centro urbano di Falcone, piccolo comune della costa tirrenica messinese, dove gli acquirenti confluivano per approvvigionarsi delle dosi di narcotico. Nell'inchiesta sono coinvolti anche numerosi minori, fra acquirenti e pusher.